Pencelli scala in mediana per il ritorno tra i titolari di Bettoni che riprende possesso della corsia bassa di sinistra. Foglia, De Angelis e Romanelli costituiscono il trio d'attacco vista la squalifica di Calderini, mentre Zane e Bernini partono dalla panchina. Due gli ex da parte opposta e se Darrior siede inizialmente accanto a Soda, Dierna occupa il posto di centrale insieme a Salvadori. Prima occasione per i padroni di casa con il traversone da destra di Bischeri e l'incornata di Alteri che si esaurisce sul fondo. I ruoli si invertono al venticinquesimo quando la torre di Alteri innesca Bischeri sulla destra. Evitato il fuorigioco, l'ex Massese vede solo il primo palo sul quale però scotte di piede rimedie in angolo. La presenza in fase offensiva della Sanger, nonostante i cinque angoli calciati, nella prima frazione si limita alla punizione di De Angelis troppo centrale per creare il minimo problema a Nocchi. Ad inizio ripresa De Angelis attacca allo spazio ma nessuno riesce ad accompagnarlo e così non riesce nulla di meglio di un diagonale oltre il palo opposto al centro avanti già del Viareggio e del Siracusa. Metà frazione di una gara che muta dopo il vantaggio del Prato a Villacidro. Slalom di foglia fino all'interno dei 16 metri giallorossi, poi il raso terra ben sotto la soglia di pericolo. Subito dopo Travaglini va a vuoto di testa e quindi Alteri ha un altro pallone giocabile ma nel suo sinistro c'è poca convinzione. Il Poggi Bonzi quindi cresce nel ritmo, Gilardi evita il fuorigioco, vede Marasco a rimorchio, Scotti gli dice ancora una volta di no. In un clima non troppo stile sorprende l'espulsione di Soda, minuto numero 33 per proteste verso l'operato del signor Taioli. Il duello tra Marasco e Scotti si ripete al 37esimo con risultato medesimo e l'estremo azzurro mette in corner il tiro cross del numero 11 locale. A tempo scaduto sulla sua mattonella preferita dall'Ara a palla ferma due anni fa, giustizio al Figline che può avrebbe vinto il campionato, stavolta il portiere azzurro respinge. Finisce anzitempo negli spogliatoi anche Marasco e al giro numero 50 dopo la melina della Sangio finisce a reti inviolate. Basta un pareggio con la Giacomense per rimanere almeno sul campo tra i professionisti.